99 anni ma come si sente? Come un leone, la memoria non manca, la memoria non manca, gli anni sono tanti ma sono più che fiero ad essere arrivato a questa età. 99 anni e non sentirli, un cuore da alpino pulsante più che mai, gli occhi sempre vispi e guizzanti, lui è un volto noto in tutto il Bassanese, Santo Lunardon ha toccato il traguardo dei quasi 100, come si diverte a ripetere lui stesso, una vita intensa costellata di momenti tristi e bui come quelli della prigionia. Sono stato 22 mesi in prigionia, senza mangiare poco, una volta al giorno, come i maiali, una disperazione. Che però non hanno scalfito l'entusiasmo e la voglia di vivere di nonno santo. Qual è il ricordo più vivo, più bello che ha lei di tutti questi 99 anni? Il ricordo più bello è stato quello che quando sono tornato dalla prigionia ho salutato mia mamma. Se lo ricorda bene questo? Sempre nel cuore della mia mamma. Molto rigore alla base di una vita longeva, dice Santo Lunardon. Qual è il segreto per arrivare a 99 anni così belli arzilli? Il segreto è quello. Io vado a letto tutte le sere, quasi la stessa ora. Mangiare sempre, diciamo, non tanto, ma buono. Sana alimentazione quindi, ma un ingrediente alla base di tutto che dovrebbe essere in realtà condiviso da ogni persona. È negro, sempre negro. È mai passione. Solo muro la mula, muro il padrone.